blink non bloccante molti di voi in questi mesi mi hanno segnalato dei problemi sul delay più che altro delle perplessità sul fatto che il delay blocca completamente arduino allora ho deciso di farvi un video in cui faccio un blink realizzo un blink sul pin 13 quindi con il solito led però senza usare il delay quindi il led lampeggerà ma non c'è un delay e quindi lo sketch è non bloccante vediamo subito come fare per realizzare un blink non bloccante è necessario evitare di utilizzare la funzione delay vediamo come fare con un semplice sketch iniziamo definendo una variabile che chiamo intervallo e che contiene il tempo per cui il led sarà acceso per fare questa prova potete collegare semplicemente un led al pin 13 tramite una resistenza da 220 270 390 ohm ci serve poi una variabile di stato di tipo intero che mettiamo uguale allo e poi delle variabili per misurare il tempo ce ne serve una per misurare il tempo corrente l'altro per calcolare l'intervallo di tempo che è trascorso quindi sono variabili di tipo unsigned long la chiamiamo una t0 e l'altra dt che sta per delta t quindi intervallo di tempo nella parte di setup andiamo a preparare il pin quindi pin mode 13 come uscita e registriamo subito il tempo su t0 con millis nella parte loop dobbiamo calcolare l'intervallo di tempo quindi non appena lo sketch parte nel setup andiamo a salvarci dentro t0 il numero di millisecondi correnti poi all'interno del loop calcoleremo l'intervallo di tempo tra millis cioè il tempo corrente e il tempo che mi sono salvato facendo una differenza ovviamente questo intervallo crescerà a un certo punto abbiamo impostato mille mille secondi come l'intervallo di tempo quando questo dt raggiungerà i mille millisecondi farò scattare un if all'interno di cui andrò a modificare lo stato del led allora intanto scriviamo l'if quindi andiamo a capo e qua nella condizione metteremo se dt è maggiore uguale di intervallo allora entrerò perché è passato un secondo la prima cosa da fare è risalvarmi di nuovo i millis correnti in modo che poi quando uscirò potrò ripartire ricalcolando il dt che ripartirà da zero quindi posso andare a modificare lo stato del led facendo stato uguale not stato quindi se stato era low la prima volta che vado dentro diventa high e viceversa dopo di che imposto il led quindi attivando o spegnendo l'uscita a seconda del valore contenuto nella variabile stato con digital write 13 stato possiamo fare verify e caricarlo ho caricato lo sketch su tinkercad circuit eseguendolo vedrete che il led lampeggerà senza nessun problema esattamente come con un blink comunissimo bene spero con questo video di aver sciolto uno dei vostri dubbi come sempre vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo domani